Ad Adria sono stati piantati nove alberi. Arriveranno presto anche le centraline anti-smog grazie al contributo del forum Ricorda e Rispetta. Vediamo. Incrementare il patrimonio arboreo della città attraverso il contributo diretto dei cittadini. È questo l'obiettivo dell'iniziativa pensata dal forum Ricorda e Rispetta, attraverso una donazione voluta dalla Manzoni Sport Pallavolo Andrea e che fa parte del più grande programma di raccolta effettuato durante le scorse festività natalizie. Il ricavato ha consentito di acquisire la donazione di quasi 150 essenze arboree, di cui 15 sono state donate dal forum all'associazione Triplays per completare il bosco urbano nei pressi di Largo Ceruti, mentre le altre saranno piantumate in altra area, probabilmente quella tra Villa Ceci e Viale Ceruti, per la quale è stata già presentata formalmente richiesta all'amministrazione comunale. Le attività nei prossimi giorni si concretizzeranno in un altro importante intervento per la città. Il 31 maggio, infatti, si inizierà con il posizionamento delle cinque centraline per la rilevazione della qualità dell'aria che si respira in città. Si partirà da Piazza Trieste e Trento e a seguire saranno posizionate le altre quattro centraline nei siti individuati. Seguiranno poi alcune giornate di prove per verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature e della trasmissione dei dati. Dopo questa fase partirà la rilevazione giornaliera, 24 ore su 24 per un anno. Trimestralmente sarà infine elaborato un report che il forum consegnerà all'amministrazione per le opportune valutazioni e reso pubblico alla cittadinanza. Gli andriesi, dunque, avranno la possibilità di verificare in qualsiasi momento della giornata, attraverso un'apposita app, la qualità dell'aria rilevata da ciascuna centralina.